In regione abbiamo 81.000 circa persone con diabete, di cui un noto per cento sono diabetici di tipo 1, quindi sono diabetici che sono di alta complessità e hanno necessità anche di un utilizzo della tecnologia, più forse spinto rispetto ai diabetici di tipo 2. La nostra regione è una regione virtuosa perché è una regione in cui abbiamo dei centri di eccellenza, abbiamo dei professionisti di elevato livello assistenziale, che possono fornire un elevato livello assistenziale ai diabetici, alle persone con diabete, però abbiamo anche molte aree sguarnite, la montagna o diciamo altre zone in cui non abbiamo i centri che aveva nominato prima la dottoressa Saloni, abbiamo dei ambulatori che hanno delle ore dedicate, non hanno il personale dedicato, come avevo detto nel mio intervento iniziale, non dispongono di dietiste, di infermiere formate sul diabete e quindi diciamo non possono mettere in atto quel follow up con il team diabetologico, con il team diabetologico che invece sarebbe auspicabile, in molte zone è proprio impossibile. In alcune zone è proprio la buona volontà del diabetologo che va a tamponare le mancanze e quindi va a fare anche la formazione, va a fare anche la parte della dietista, ma sarebbe auspicabile ovviamente poter accedere alle competenze, al diadissima qualità che offrono oggi le dietiste e anche le infermiere formate sul diabete. Siamo consapevoli che rispetto al resto dell'Italia siamo in una buona condizione, però ci sono sicuramente molti ambiti che si devono ancora migliorare. Dobbiamo dare maggiore luce ai medici di medicina generale, maggiori libertà anche terapeutiche di prescrizione di questi farmatici innovativi che oggi sono riservati solo ai centri diabetologici dove si possono fare i piani terapeutici, è vero che questo presuppone che si debbano fare dei corsi di formazione e si debba mettere tutti i medici di medicina generale in condizioni di poterli prescrivere in sicurezza, è ovvio che questo richiede del tempo, però questo permetterebbe una fruibilità maggiore ai pazienti di qualcosa che invece attualmente è fruibile solo in alcuni centri. Analogamente per la tecnologia che per i diabetici di tipo 1 è molto importante e che sta correndo veloce perché negli ultimi anni abbiamo avuto diciamo molte variazioni, molte innovazioni e che quindi deve essere seguita magari più attentamente dai medici che si possono formare, possono ottenere traccia di cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia e questo non sempre è possibile quando il medico non ha una struttura dedicata o è disponibile per fare diabete solo poche ore a settimana.